Ciao a tutti, questo qua è il mio primo libro che ho scritto io in collaborazione con le edizioni Iume di Torino che mi hanno chiesto di collaborare, dato che quest'estate ho fatto un articolo sul Corriere di Chieri che parla del mio blog, delle mie esperienze professionali che ho svolto all'interno dell'Istituto Santa Teresa e appunto ho fatto questo libro perché era fortemente voluto sia da me sia da loro e questo libro è un libro che parla di macchine e trattori agricoli dal 1880 al 1960 circa è un libro che è di circa 110 pagine e parla dei marchi più comuni tra cui Landini, Fiat, Orso, Isame, Schlüter e altre diverse marche vi auguro una buona lettura e poi oltretutto io sono Giovanni Civera artista del blog www.landiniepoca.blogspot.com che è un blog inedito appunto sui trattori d'epoca e macchine agricole che hanno segnato la storia e parlo appunto delle fiere di diversi marchi più famosi in Italia e non solo e vi auguro una buona lettura e un saluto a tutti da Giovanni Civera, grazie